Sergio Pennavaria nell'amore invisibile accompagnato dal maestro Martino Bianchieri. L'amore invisibile è una voce al telefono, una sorpresa, un equivoco, un gioco per cui potrei anche impazzire, potrei anche impazzire. L'amore invisibile è una voce al telefono, una sorpresa, un gioco per cui potrei anche impazzire. L'amore invisibile è una voce al telefono, una sorpresa, un gioco per cui potrei anche impazzire. Spesso immagina cose per cui potrei anche partire. Potrei anche partire. L'amore invisibile è una voce al telefono, una sorpresa, un gioco per cui potrei anche impazzire. L'amore invisibile è una voce al telefono, un gioco per cui potrei anche impazzire. L'amore invisibile è un gioco per cui potrei anche impazzire.